Onorevole Quarta Pella, allora anche la Turchia ha deciso di entrare in campo contro l'ISIS con i bombardamenti e anche l'Australia. Questo cosa significa? Che si è allargata la coalizione contro una minaccia terroristica che riguarda tutti, non solo l'Occidente. ISIS è una forma aggressiva contro un modo di convivenza civile ed è una cosa che riguarda paesi musulmani e paesi non musulmani. E' importantissimo che ci sia anche la Turchia che è uno dei paesi più interessati ed è una delle potenze regionali dell'area. Ci sono rischi anche per quell'area, per la Turchia? Perché si parlava della possibilità di un avanzamento anche in quelle zone, oltre che in Siria. In Turchia in questo momento non c'è un'offesa diretta dell'ISIS. Certamente la Turchia è più esposta rispetto ad altri paesi perché è un paese musulmano, è un paese che nell'area ha un peso straordinario ed è un paese che in questo momento si mette in gioco. Quindi certamente immagino che l'allerta terrorismo in Turchia aumenti, ma l'ISIS in questo momento non è offensiva contro la Turchia. C'è il rischio a questo punto che dal bombardamenti poi si passi ad azioni di terra, via terra? È possibile, io credo che si debba fare tutto il possibile per sconfiggere una minaccia, che è una minaccia assolutamente seria e che è stata lasciata per troppo tempo senza una risposta vera e concreta. Ecco la posizione dell'Italia in tutto questo? Noi siamo sempre disponibili, non ci siamo tirati indietro, anche gli Stati Uniti ci hanno riconosciuto il fatto che abbiamo avuto un ruolo di leadership, anche con Federica Mogherini, sia in Europa che a livello internazionale, dobbiamo continuare così a essere veramente un attore importante perché noi più di altri paesi europei riteniamo che il Mediterraneo è il cuore del futuro dell'Europa.